Siamo qui con Enrico Trassinelli, country head di DNCA Finance, quale vogliamo chiedere quali saranno, visto il 2019 che è andato abbastanza bene sui mercati, come sarà invece questo 2020? Il 2020 credo che al netto di quello che sta succedendo adesso sarà comunque un anno positivo, perché comunque i mercati finanziari hanno di che crescere, c'è ancora crescita economica, c'è dei settori trainanti difficilmente arrestabili a livello di trend, settori tecnologici della MedTech, Biotech e che quindi sono molto rassicurati. Tutto sta e stare attento alle valutazioni, quindi il consiglio che diamo agli investitori è quello di non stare in trade troppo affollati, quindi alcune parti della tecnologia, soprattutto americana, hanno valutazioni che secondo noi non meritano e pongono dei rischi. Stare attenti anche in particolare alle valutazioni sui mercati obbligazionari, perché comunque è vero che, come diceva lei, hanno fatto delle belle performance, ma guardando avanti sarà difficile che continuino. Quindi stare attenti sui mercati obbligazionari, in particolare al segmento a yield e soprattutto anche ai titoli governativi che magari salgono momentaneamente in qualità di bene rifugio, ma appena viene meno il motivo per cui gli investitori si rifugiano possono scendere e fare molto male ai portafogli, tanto più che sono obbligazionari. Quindi diciamo che siamo costruttivi a livello generale, attenzione sui mercati obbligazionari, più azionario che obbligazionario, quindi in generale non è più costruttiva. Ottimo. DNCA Finance ha in mente alcuni prodotti che potrebbero essere veramente indicativi per i nostri investitori. Sì, guardi, noi per quanto riguarda i mercati obbligazionari, la soluzione numero uno che stiamo promuovendo è l'Alfa Bonds, perché consente di stare sui mercati obbligazionari, ma con un margine di, una speranza di performance, abbiamo delle posizioni sull'inflazione che possiamo comprare sui mercati obbligazionari, veramente con valutazioni molto basse, siamo addirittura negativi con la duration, quindi potremmo approfittare in caso di rialzo dei tassi. Siamo soprattutto molto liquidi perché cosa succede che in caso di stress molti segmenti del mercato obbligazionario possono fare grandi danni a causa della loro liquidità. Alfa Bonds è estremamente liquido, quindi noi lo proponiamo addirittura, non dico come il cash, però è con l'investimento, diciamo, lo step successivo al cash è un po' un fondo fatto come Alfa Bonds. Questo è a livello obbligazionario. A livello azionario consigliamo di investire comunque nei temi trenanti a cui ci andavo prima, della tecnologia globale, ma che sia veramente globale. È il fondo per farlo, è la DCA Global Leaders, anche qui ripeto originale, perché in effetti ha poca America, è veramente diversificato globalmente, è sempre una posizione in cash strutturale del 15-20% che ci consente di sopravvivere bene anche in caso di storno. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi, grazie a tutti.